messaggio a johns malman di jesus del 5 settembre 2012 l'amore è la chiave per il risveglio tentate di difendervi contro i colpi e i dardi di una sorte crudele che apparentemente vi assalgono da tutti i lati e tuttavia si tratta di niente di più che delle proiezioni spaventose che si riflettono a voi nello specchio dell'irrealtà uno specchio che avete costruito e con entusiasmo lucidato per garantire una visione chiara di tutto ciò che sembra minacciarvi mettetelo via perché non fa che aumentare l'allarme e la confusione qui nel mondo spirituale dove molti di voi sarà presto si uniranno a noi stiamo guardando con piacere e gratificazione come vi fate strada con determinazione in avanti lungo il percorso accidentato che avete così valorosamente scavato e che conduce al cielo è stato un viaggio lungo e difficile con molte digressioni lungo la strada e ora avete raggiunto le sue fasi finali siete in effetti stati sostenitori di uno scopo mentre nonostante le molte distrazioni seducenti che vi hanno di volta in volta distratti dal vostro percorso siete sempre fermamente e coraggiosamente tornati ad esso ogni volta avete con fermezza reimpostato il corso dopo che era temporaneamente caduto nel dimenticatoio e il vostro senso di scopo immortale ha fornito l'incoraggiamento necessario per le molte indecisioni che avete incontrato e sembrava che aveste perso la strada nessuno può davvero perdere la loro strada perché tutti hanno sempre una guida divinamente ispirata disponibile dovete solo chiedere la troverete non è sfuggente tuttavia molti sono cattivi ascoltatori di quella voce interiore che offre e fornisce tutte le indicazioni necessarie la voce di dio il cui unico scopo è quello di portarvi fuori dalla illusione e nella luce in quel momento tutto sarà chiaro quando la gioia eterna sostituisce la paura lo sconcerto e la confusione che sono le caratteristiche dell'illusione quella voce interiore vi sta chiamando tutti costantemente perché la volontà di dio è per voi di risvegliarvi nel vostro stato naturale divino di estasi e statica in cui siete stati creati e dove avete veramente la vostra esistenza nonostante le esperienze attuali e irreali che cercano di convincervi altrimenti risvegliarvi è soddisfare la vostra funzione nel piano di dio per l'umanità quella apparentemente perduta nell'illusione che non esiste un luogo di inadempimenti in cui sono deluse le speranze e c'è solitudine e la paura inquina ogni vostro pensiero il risveglio è essenziale inevitabile e sarà raggiunto quando si è scelto come si vedrà di cancellare tutto ciò che non è di amore della vostra mente ciò che non è d'amore è irreale ma i vostri tentativi quasi senza sosta di provare a creare una tale vera e propria condizione consumano enormi quantità di vostra energia lasciando a voi proprio come torce elettriche con batterie che sono quasi completamente esaurite poca forza e motivazione per cercare e scoprire la vostra eredità spirituale o il vero scopo nella vita eppure è l'unica attività utile con cui occupare voi stessi mentre si lotta con i dubbi e le angosce che sono i vostri compagni quasi costanti quotidiani tentate di difendere contro i colpi e i dardi di una sorte crudele che apparentemente vi assalgono da tutti i lati e tuttavia si tratta di niente di più che delle proiezioni spaventose che si riflettono a voi nello specchio di in realtà uno specchio che avete costruito e con entusiasmo lucidato per garantire una visione chiara di tutto ciò che sembra minacciarvi mettetelo via perché non fa che aumentare l'allarme e la confusione l'amore è la chiave per il risveglio e la fine della paura del dubbio e dell'ansia tuttavia è soprattutto la sensazione che solo quando sarete sicuri e senza minacce sarete in grado di entrare nel santuario che l'amore fornisce ma l'amore è il santuario che fornisce la sicurezza che cercate quando ci si impegna con amore si opera dall'amore e si offre amore in ogni situazione le vostre paure svaniranno perché non avrete più bisogno di loro e non le vorrete l'amore è davvero la chiave per liberare tutte le tue paure quindi prendere il coraggio a due mani e saltate nell'amorevole avviso vi ci potete trovare voi stessi pienamente supportati le vostre paure si dissolvono e il vostro destino sarà chiaro non più nascosto nelle nebbie e la confusione con cui di siete da tempo abituati a arrancare così stancamente con circospezione e furtivamente l'amore non vi abbandonerà mai è la realtà tutto ciò che esiste tutto ciò che senza amore vi sembra di vivere è irreale e non durerà però ferocemente si tenta di mantenerlo è possibile ritardare la sua dissoluzione ma non si può impedire e quando ogni traccia di esso è stata debellata vi risveglierete e la beatitudine assoluta vi abbraccerà vostro fratello amorevole gesù grazie a tutti